C'è bisogno di speranza, siate audaci. L'appello che i Vescovi della Chiesa di Puglia hanno scritto ai capi di Stato del G7, riuniti nella nostra regione a Fasano, Borgo Ignazia, in provincia di Brindisi. Questa mattina vogliamo parlare di questo appello con il Presidente dei Vescovi Pugliesi, Arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, che davvero ringrazio di cuore per essere collegato con noi. Buongiorno Eccellenza, ben trovato e ben ritornato su Padre Pio TV. Buongiorno a voi, bentrovati, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ne voglio approfittare anche per dare il benvenuto alla collega Maria Pia Picciafuoco dall'altra parte dello studio, che condividerà ovviamente con me anche questa mattinata. Bentrovata Maria Pia, buongiorno. Grazie, grazie Leonardo, grazie a tutti voi e naturalmente ritrovo molto volentieri, anche se con la tecnologia che ci divide, Monsignor Satriano, che l'autunno scorso appunto mi ha concesso una lunga intervista che trovate sul nostro canale YouTube. Grazie, eccellenza, di essere ancora qui. Grazie a lei, buongiorno. Eccellenza, la Puglia è sotto gli occhi del mondo, potremmo per certi versi semplificare così l'incipit della nostra chiacchierata, perché davvero si sta celebrando e si sta chiudendo anche nella nostra regione uno dei G7 più importanti del terzo millennio, perché la Puglia ospita quello che è stato definito appunto il G7 più importante, viste le tante, tantissime tematiche che si stanno discutendo, con una presenza d'eccezione straordinaria, una prima volta, quella di Papa Francesco. E voi avete voluto sottolineare proprio l'importanza di questa presenza che stiamo vedendo anche nelle immagini si è tenuta ieri. Sì, è stato un evento importante perché vuol dire che il gota mondiale dei nostri governanti avverte l'esigenza e l'urgenza anche di una parola chiara. Stiamo registrando credo una fragilità della politica, il Papa lo ha ribadito anche nel discorso di ieri, perché dopo aver esaminato e dettagliatamente indicato gli aspetti positivi e negativi anche dell'intelligenza artificiale nella sua applicazione, ha invocato un riscatto della politica perché un quadro etico sia dato e l'intelligenza artificiale non diventi appunto uno strumento che si autoprogetta, uno strumento che si autodetermina indipendentemente dall'intelligenza umana e soprattutto dal cuore dell'uomo. E in effetti Papa Francesco ci ha tenuto a sottolineare attraverso quella bellissima formula da lui stesso coniugata dell'algoretica appunto quale deve essere il ruolo appunto dell'intelligenza artificiale nella vita dell'uomo. Per tornare al messaggio che voi avete, voi Vescovi di Puglia, avete voluto consegnare ai capi di Stato del G7, sono due le immagini molto belle che ci colpiscono e che sono anche ovviamente mutuate da quello che è il logo che abbiamo visto all'inizio di questo consesso del G7 appunto che è l'ulivo e i muretti a secco. Sono due simboli distintivi della nostra terra di Puglia che in qualche maniera aiutano anche a fotografare una situazione e se possibile anche quella ricerca della speranza che voi richiedete ai governanti e per esteso direi anche a ciascuno di noi. Sì, la Puglia è stata terra di speranza e lo è ancora, proprio per questa duplice capacità di valorizzare il creato e custodire la vita. Credo che questi due simboli che sono venuti quasi in forma spontanea ci aiutino a comprendere che la strada è sempre questa, quella di essere custodi dinamici di una realtà ricca e significativa che alimenta non solo la storia della nostra terra di Puglia ma direi la storia dell'umanità. Abbiamo dei beni che ci vengono dalle mani del creatore perché l'umanità possa ritrovare sempre ogni giorno la sua gioia di vivere e la sua dignità ma a questo va corrisposta una responsabilità, un atteggiamento coerente con il quale custodire e far progredire la storia. Ecco perché questi due simboli ci sembravano importanti da consegnare con tutto il loro bagaglio di sollecitazioni come appunto aprire varchi alla giustizia sociale, come saper rimettere al centro la salvaguardia dell'umano e saper garantire a tutti l'accesso universale ai servizi essenziali per una vita che sia veramente dignitosa per ciascuno. Eccellenza, ricollegandomi anche a quello che lei stava dicendo, voglio citare il fatto che ieri Papa Francesco ha rilanciato una frase in maniera piuttosto ardita per le nostre orecchie, diciamo, di cittadini normali cioè la politica è la forma più alta di carità, addirittura anche la parola amore ha ripetuto che è il significato, come sappiamo, più autentico del termine carità. Tra l'altro ricordiamo, dando a Pio XII quello che è di Pio XII, che la frase non è di Paolo VI, come molti pensano, ma è proprio di Pio XII. Secondo lei e nella sua esperienza, noi possiamo davvero in questo scorcio di secolo in cui sembra la politica sempre meno influente, incontrare politici che incarnano questo? Lei li ha incontrati e quando? Beh, questo è un tema abbastanza delicato perché oggi la politica oggettivamente è in crisi. È in crisi perché c'è un modello culturale che ci abita da tempo e che è la ricerca di se stessi, un individualismo che ci avvita su di noi. Per cui anche la politica, che è frutto poi anche di un modello culturale, risente di questo assestarsi in maniera, direi miope, su uno sguardo corto della realtà. Quindi il qui ed ora diventano soggioganti per molti politici. Cosa mi conviene fare più che ciò che conviene al mondo, ciò che conviene alla realtà che mi ha affidata. Ecco, c'è una forma di miopia a cui il Papa cerca di guardare sollecitando appunto i politici ad un riscatto di responsabilità. Quando il Papa dice che c'è bisogno di politica, nel discorso di ieri, è un invito molto forte, è un invito molto forte ed è una denuncia. Ecco, io ho incontrato persone serie, persone capaci. Beh, devo dire che anche la figura del sindaco che abbiamo avuto qui a Bari, che io ho conosciuto in tre anni, è sembrata una persona molto vicina alla gente, molto attenta ai problemi del quotidiano, molto capace di stabilire un contatto con le persone, sapendo anche presidiare un territorio, sapendo abitarlo. Certo, nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi è capace di fare tutto, però ecco, credo che sia questo lo stile con cui dovremmo poter camminare, no? Con coraggio, con lealtà, appunto con audacia. Dobbiamo sporcarci le mani, questo è vero. Purtroppo oggi la politica risente di questa etichetta di una cosa sporca, invece io credo che bisogna incoraggiare i nostri laici, bisogna incoraggiare le nostre realtà a sapersi determinare in uno sguardo positivo verso la politica. La positività è dentro il cuore di ciascuno di noi e più noi diventiamo generativi in questo senso, più nutriamo la politica di un bene oggettivo. Per chiudere, eccellenza, e poi la lasciamo ai suoi impegni, avete parlato di speranza, come dicevamo nel messaggio. Allora, la nostra terra di Puglia, dico nostra perché sono campanilista da questo punto di vista, profondamente innamorato della nostra terra, di quale speranza dobbiamo farci portatori? A partire anche da questo evento che ci ha in qualche maniera coinvolto un po' tutti, ovviamente non direttamente, ma anche diciamo con lo spirito di cooperazione che è proprio della nostra terra di Puglia. Quale deve essere la speranza alla quale dobbiamo guardare per il prossimo futuro? Beh, io credo che la speranza sia quella della pace innanzitutto, quello di un mondo riconciliato che sappia fare a meno di questa ideologia del nemico che anima purtroppo le nostre guerre e che ci rende intransigenti di fronte ai problemi dell'umanità. Credo che dovremmo imparare a riconciliare gli animi e a saper ritrovare una strada comune. Nel testo che abbiamo presentato abbiamo scritto che è stato rubato il futuro ai giovani e credo che questo futuro passi attraverso la strada della pace. Una pace che deve essere coltivata senza sé e senza ma, sapendo veramente abbassare gli standardi e cercando il bene comune non solo del proprio recinto, ma anche di quello che è il bene dell'umanità. Oggi le guerre stanno affamando l'umanità, il debito mondiale sta crescendo per i paesi del sud e questo non farà che creare altri conflitti e altre sofferenze. Dobbiamo fermare, almeno con dei cessati il fuoco, queste guerre fratricide e riconciliare gli animi. Il Papa ce la sta mettendo tutta nel invocare questo riscatto della politica che passa attraverso una capacità ferma di mettere a tema il discorso sulla pace. Eccellenza, io la ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi e le sue parole oggi davvero ci aiutano a segnare il passo riguardo a questo cammino della pace che ci deve riguardare tutti. Grazie, grazie di cuore. Grazie e buona giornata a voi. Grazie. Grazie, ringraziamo Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto e presidente della conferenza episcopale pugliese. Noi ora ci fermiamo e poi ci metteremo all'ascolto appunto di Papa Francesco, di queste parole così belle e illuminanti che ha pronunciato ieri al G7. ma prima pubblicità.